signori e signore perché abbiamo anche delle signore che seguono il canale parliamo di Engannu contro Miochis 2 abbiamo fatto un'analisi qui sul canale prima che accadesse questo match e la mia analisi è stata vedo Miochis vincitore e mi ha detto a meno che Engannu non riesca a combattere del tutto in maniera diversa rispetto al primo match che significa avevo detto che doveva combattere con intelligenza usando dei jab, dei diretti quindi non bruciando tutte le energie nei primi tre minuti avevo concluso però dicendo che non vedevo possibile o comunque vedevo molto lontanamente probabile che Engannu in poco tempo quindi uno o due camp riuscisse a fare questo grandissimo cambio nel suo modo di combattere e modificasse così tanto il suo stile di combattimento da permettergli di vincere il match devo rimangiarmi le mie parole perché Engannu è stato bravissimo a cambiare il suo modo di combattere e ha fatto esattamente questo cioè ha fatto un match intelligente pesava molto di più e va bene così nel senso ha sfruttato la categoria ha riempito la categoria dei massimi a livello di chili che poche volte si vede è un ragazzo penso mostruosamente grande e grosso e abbiamo visto che combattendo in questo modo Miocic ha avuto delle difficoltà gigantesche a fare il suo game plan perché? Perché nel primo match Miocic continuava a portare a terra Engannu semplicemente perché Engannu aveva finito il cardio questa cosa non è successa a questo giro perché Engannu non ha combattuto come il primo cioè non ha tirato dei colpi potenti per due o tre minuti e non si è bruciato quindi bravissimo Engannu non so se sia grazie a Dusman al suo camp o a chi che sia che gli ha spiegato che doveva combattere in maniera diversa comunque complimenti a lui che ci è riuscito perché vediamo tante volte i fighter che man mano che vanno nei match fanno sempre gli stessi errori invece lui è riuscito a reinventarsi proprio completamente e portare un altro fighter all'interno della gabbia infatti Miocic abbiamo visto che all'inizio del secondo round glielo si leggeva in faccia ha detto e mo che cazzo faccio cosa faccio adesso come lo porto giù a questo come lo meno è stato veramente bravo perché jab al corpo diretti al corpo low kick vabbè tirati un po' tecnicamente male ma va bene fanno male comunque in questa categoria con ragazzi di questa stazza quindi direi complimenti a Engannu complimenti a Engannu nulla a togliere a Miocic però Engannu è riuscito proprio a fare tutto quello che doveva fare per portarsi a casa al rematch nuovo campione del mondo dei massimi penso il campione del mondo dei massimi più grosso della storia perché si anche Brock Lesnar era gigante però grande e grosso così secondo me veramente non so se ne vedremo altri in futuro grandi e grossi così e la cosa che mi viene da pensare adesso è John Jones chiaramente vuole questo match per forza ma togliamo John Jones un attimo dall'equazione tutti gli altri massimi che ci sono chi è che riuscirebbe a mettere in difficoltà Engannu così come ora cioè con il modo di combattere che ha ora c'è la possibilità di un rematch con Miocic dato che sono uno pari a livello dei cartellini non lo so nel senso avendo battuto così Miocic in maniera incredibilmente facile perché alla fine non ha preso un colpo cioè colpi veramente significativi non li ha presi e l'altro problema qual è? che se tu vuoi cercare di metterci un gannu molto facilmente il tuo allungo è minore perché Engannu è veramente gigantesco e quindi devi trovarti faccia a faccia e scambiare chi è che ha il mento per scambiare con Engannu e può permettersi di dire ok provo a tirare un diretto provo a tirare un jab provo a tirare dei colpi Engannu rischiando di prenderne uno anch'io perché ci vuole un mento incredibile Miocic ci ha fatto vedere che ha un mento incredibile nonostante sia andato giù se guardate tutte le botte che ha preso durante il primo round paurose quello che mi ha fatto quasi più specie allora ha iniziato il match ho visto un jab diretto al corpo ho detto che cazzo sta succedendo? chi è questo? vestito da Engannu e poi la transizione sprawl e girare dietro per picchiare a parte che l'ha fatto velocissima pesando 120 kg ho detto incredibile inganno incredibile mi ha stupito molto mi ha stupito molto perché non si vede tanto spesso un fighter che da un match all'altro riesce a fare così tanto improvement quindi così tanto miglioramento nelle fasi sia di striking perché ha cambiato il suo modo di combattere in piedi che di lotta che di intelligenza perché ok c'è stata una buona difesa da takedown dal double leg ha sprollato bene però gli è stato facilitato perché? perché perché ha combattuto bene prima se lui avesse combattuto come il primo match e avesse bruciato tutto il cardio quel takedown lì non lo avrebbe difeso quindi molto più IQ da parte di Engannu da parte di chi che sia all'angolo insomma che gli ha fatto il camp che può essere Usman o insomma non sappiamo chi c'è stato veramente a fargli questi a dargli questi consigli e fargli avere queste chicche che lo hanno migliorato quindi complimenti al al camp di Engannu che ha fatto un gran lavoro in questi mesi e si è visto i risultati in gabbia adesso a me viene da pensare che John John sia l'unico in grado di portarsi a casa questa cintura perché tutti gli altri li vedo veramente in difficoltà veramente in difficoltà così su due piedi non me ne viene in mente uno che possa mettere capo Engannu in piedi o portare giù Engannu mi piacerebbe sapere la vostra togliamo un attimo John John dall'equazione cioè nominatelo alla fine prima pensate agli altri e ditemi secondo voi chi può battere questo Engannu e quello che verrà dato che ha fatto questo cambiamento sicuramente continuerà a migliorare e se pensate che John John possa vincere o non possa vincere un eventuale match dei massimi ragazzi grazie questa settimana uscirà il vlog del Venator dove vi farò vedere dietro le quinte di quello che è stato l'evento Venator FC6 vi farò vedere la postazione del commento e tutte le cose che sono successe ci vediamo sempre questa settimana sia per le dirette basta che mi seguiate su Instagram per vedere quando saranno a che ora con chi ti vedo i podcast come sempre su Twitch e l'altra cosa mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti